Topi stecchiti, escrementi e rifiuti. Non è una gincana piacevole quella che bisogna affrontare quando si percorre la pista ciclabile che da viale dei patrioti porta al parcheggio della stazione ferroviaria. La pista ciclabile, inaugurata dalla Giunta Reggi, non ha mai avuto vita facile e non è mai stata tenuta in uno stato di decoro tale da invitare i cittadini a percorrerla. Non si tratta tanto del manto della pista, che forse proprio per lo scarso utilizzo ha in buono stato, quanto dell'ambiente circostante. Tra rifiuti, escrementi, topi morti, recinzioni tagliate e lo stato di degrado generale, la passeggiata diventa alquanto inquietante anche se affrontata di giorno. Parallelamente alla pista ciclabile corre la vecchia ferrovia Piacenza-Bettola, la famosa littorina che portava in Valnure, ormai completamente abbandonata e in stato di degrado. L'ex ferrovia, mangiata dal verde, è ormai diventata una discarica.